Continua e cessante l'azione di contrasto al lavoro clandestino in Valle Seriana, nelle attenzioni dei carabinieri della stazione di Gandino, entrati in azione in una ditta tessile situata in via Damiano Chiesa a Leffe. I militari dell'arma hanno posto sotto sequestro una decina di persone di origine cinese, di cui una è stata arrestata per resistenza pubblico ufficiale e lesioni, mentre una seconda è stata denunciata a piede libero perché non in regola con il permesso di soggiorno. A certamenti sono tuttora in corso nei confronti del titolare della ditta di confezioni denominata Cuca. Mentre si svolgevano le operazioni di controllo, un trento tenne ha chiesto di poter andare ai servizi e, convinto di farla franca una volta all'interno, ha tentato di fuggire dalla finestra. Purtroppo per lui la prontezza di riflessi del maresciallo dei carabinieri ha bloccato l'azione. Il blitz è avvenuto di prima mattina, quando ancora gli operai cinesi dormivano in azienda. È stato nel tentativo di fuga che è nata la colluttazione tra un carabiniere e un lavoratore. La peggio toccava a secondo, bloccato e ammanettato una volta finito a terra. Il giudice ha convalidato l'arresto senza misure cautelari per il trentottenne e quindi ha colto il patteggiamento della pena a cinque mesi di reclusione con sospensione della condizionale.